Diamo il benvenuto alla dottoressa Elisa Sangiorgi, dirigente dell'area governo del farmaco e dispositivi medici della regione Emilia-Romagna, presidente della commissione regionale del farmaco sempre della regione Emilia-Romagna e anche componente della commissione scientifico-economica di AIFA. Benvenuta dottoressa Sangiorgi. Grazie, grazie. Dottoressa Sangiorgi, stiamo vivendo chiaramente un momento di grandissima evoluzione e trasformazione delle cure. Da una parte chiaramente l'impatto anche della stagione pandemica, dall'altra anche una serie macro trend, epidemiologi, tecnologici, innovazione. In questo c'è un tema chiave, un focus che è quello delle cure di prossimità, in cui peraltro la regione Emilia-Romagna si è sempre caratterizzata anche per un modello abbastanza innovativo. Quindi quali sono dal suo punto di vista attualmente le strategie evolutive, chiaramente per le cure, per la prevenzione, ma anche in particolare per quanto riguarda anche la farmaceutica? Allora, noi siamo molto interessati ovviamente alla sanità territoriale, alla medicina territoriale, sia dal punto di vista del pubblico, dell'SSN, come ad esempio penso per esempio alla casa della comunità di Vettola, dove vengono somministrati chemioterapici, antiblastici, ma anche ovviamente a tutto il tema delle farmacie, che per noi sono un presidio territoriale di prossimità fondamentale, perché in Emilia-Romagna su 4 milioni e 400 mila abitanti abbiamo 1.400 farmacie e diventeranno a breve 1.450 grazie al nuovo concorso ordinario e insomma ci interessa molto collaborare ed integrare tutto quello che è il servizio della farmacia, intesa come farmacia dei servizi, quindi passando dalla farmacia come erogatore di farmaci alla farmacia come erogatore di servizi e integrandola appunto con le attività del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare per i pazienti a bassa complessità e soprattutto nelle aree più remote della regione, dove la farmacia appunto ha un ruolo fondamentale di vicinanza e di prossimità per i cittadini. Ecco dottoressa San Giorgi, proprio da questo punto di vista negli ultimi anni c'è stato un quadro legislativo in evoluzione, perché comunque abbiamo visto una sperimentazione sulla farmacia dei servizi, abbiamo visto un DL sostegni che ha introdotto una serie di misure anche in favore delle farmacie, anche nelle zone interne del Paese, ricordiamo sempre perché l'Italia è una nazione europea con più aree interne, quindi dove c'è un problema peraltro di inappropriatezza e di accesso a prestazioni specialistiche che è fortissimo. E non da ultimo anche la missione 5 poi del PNRR stanziava degli specifici fondi anche in qualche modo per digitalizzare le farmacie rurali e collegarle anche ai centri ospedalieri. Alla luce anche di questo quadro evolutivo, come dal suo punto di vista sta evolvendo la farmacia dei servizi e come, chiaramente dal punto di vista di una regione così importante come quella della regione Emilia Romagna, deve evolvere. Allora, innanzitutto io penso che serva da parte del livello centrale un'omogeneità nei servizi erogati dalle farmacie. Noi ci siamo impegnati molto sul tema della farmacia dei servizi perché ci crediamo tantissimo e crediamo davvero che possa anche un po' lenire il problema delle liste d'attesa. In particolare abbiamo prodotto diversi atti sulla qualità dei locali dove svolgere, perché ovviamente per quanto riguarda il servizio sanitario si parla di accreditamento, per le farmacie non si parla di accreditamento, però noi abbiamo voluto comunque fare un focus sulla qualità dei locali, locali dove svolgere i servizi e anche i locali distaccati che dal periodo pandemico hanno avuto un ruolo fondamentale perché sono state tante le attività svolte dalle farmacie. Noi adesso partiamo con una sperimentazione sulla farmacia dei servizi in cui ci occuperemo anche di telecardiologia in farmacia, quindi per pazienti a bassa complessità daremo la possibilità di fare a carico pubblico alcune prestazioni cardiologiche con telerefertazione a distanza e poi una serie di attività legate all'antimicrobico resistenza tra cui per esempio lo sconfezionamento di antibiotici per contrastare il tema dell'antimicrobico resistenza che come sappiamo in Italia è un tema drammatico e quindi dando la giusta dose al paziente senza lasciare una confezione intera se il trattamento prevede un numero minore di giornate. Per quanto riguarda in generale i servizi abbiamo anche fatto un'analisi proprio sul tema della cardiologia per vedere quante farmacie fossero già in grado di erogare con degli elettrocardiografi di qualità quante delle farmacie fossero già in grado di erogare questa prestazione, questa tipologia di prestazione e ci siamo resi conto che quasi la metà delle farmacie dell'Emilia-Romagna è già in grado di erogare questo tipo di prestazione e lo fa già privatamente, quindi per noi questo è un grande valore aggiunto soprattutto nelle aree remote. Un altro atto che vorrei citare e di cui sono molto fiera è che noi facciamo, oltre ai sostegni che giustamente lei ha citato a livello nazionale, noi diamo un sostegno, un contributo economico alle farmacie rurali per la loro sopravvivenza che per il sistema è fondamentale, ma anche per la sopravvivenza dei dispensari che sono delle piccole entità che non sono proprio delle farmacie ma sono delle piccole propaggini delle farmacie anche in aree estremamente remote con una popolazione non sufficiente a garantire l'apertura di una farmacia e questo per me è un grande valore aggiunto perché significa proprio il sostegno alle rurali e il fatto che la popolazione che si trova nelle aree più remote, penso per esempio all'alluvione dell'anno scorso, del maggio del 2023 che è stato qualcosa di drammatico, pazienti che si trovano in quelle condizioni possono avere comunque un'assistenza farmaceutica e ce ne sono molte, in Emilia Armagno sono 42 dispensari e sicuramente più di una ventina si trova in queste condizioni di difficoltà, insomma di sopravvivenza dal punto di vista proprio gestionale ed economico e quindi questa è una manovra che è stata fatta, è stata fortemente voluta e anche quella appunto del nuovo concorso per aprire nuove sedi. Quindi noi sulla farmacia, insomma sul ruolo della farmacia vogliamo lavorare, continuare a lavorare in stretta collaborazione con i servizi farmaceutici delle aziende sanitarie ma anche le associazioni di categoria che ovviamente svolgono un ruolo importante. Tutto ciò in forte integrazione con la sanità territoriale, servizio di assistenza territoriale della regione, le case della comunità e anche gli ospedali, però non dimentichiamo che ci sono delle zone che sono lontanissime dagli ospedali e che per queste zone insomma la presenza della farmacia è fondamentale. Certo, è molto spesso anche un dispensario, alla fine è anche una soluzione non solo positiva per il cittadino che ha anche un accesso al servizio farmaceutico di prossimità ma anche sostenibile economicamente per un servizio sanitario regionale perché altrimenti chiaramente sarebbe gravata di altri costi in assenza. Ma dottoressa San Giorgi, i dati OSMED che pubblica AIPA, quindi l'osservatorio sui medicinali, puntualmente fotografano anche una criticità per quanto riguarda la farmaceutica che è la bassa aderenza alla terapia. Da questo punto di vista è considerato anche che la sperimentazione della farmacia di servizi proprio poneva anche attenzione a quelli che erano i temi di aderenza alla terapia. Ritiene che la farmacia dei servizi potrà dare un contributo? Io penso che il farmacista territoriale di comunità debba avere assolutamente, privilegiare il proprio ruolo clinico di counselor al paziente e assolutamente può fare molto per quanto riguarda l'aderenza, soprattutto nel caso della farmacia fiduciaria perché se il paziente si rivolge sempre alla stessa farmacia chiaramente il farmacista ha la possibilità di valutare quante confezioni sono state erogate e poi c'è sempre il bias tra l'erogazione e la reale somministrazione. Non è detto che se il paziente ha in casa il farmaco poi in realtà l'abbia assunto, però certamente è la migliore approssimazione possibile. La regione Emilia-Romagna ha inteso sviluppare il tema dell'aderenza in farmacia sulla broncopneumopatia cronico-ostruttiva in cui è prevista una intervista, già dal 2019 era previsto, poi purtroppo c'è stato il covid e non era possibile insegnare al paziente come utilizzare i dispositivi per la BPCO perché ovviamente eravamo tutti impossibilitati a fare questo lavoro, però l'ipotesi è quella di fare una sorta di intervista al paziente in cui si chiede appunto quando e come assume il farmaco, se è in grado di assumerlo, soprattutto immaginate la difficoltà per gli inalatori che hanno già una scarsa adesione alle terapie ma anche c'è anche una quota di farmaco che arriva a livello alveolare che è molto bassa, quindi è molto importante il tema dell'aderenza nella BPCO e quindi si chiede appunto al paziente se assume correttamente il farmaco e se lo assume con aderenza e persistenza e successivamente si chiede se ha avuto reazioni avverse e anche si fa la ricognizione farmacologica come dalla raccomandazione ministeriale numero 17, quindi si chiede quali siano le terapie concomitanti e poi si prevede anche una seconda intervista in cui si vede a distanza di mesi se ci sono state delle modifiche o se c'è necessità di contattare il clinico per modifiche terapeutiche, quindi sulla aderenza siamo partiti proprio sulla tipologia di farmaci che aveva una più bassa aderenza e appunto rientra nella nostra sperimentazione della farmacia dei servizi e anche questo secondo me è un ruolo che può esercitare molto bene il farmacista territoriale anche dando appunto consigli su appunto sull'utilizzo, sul corretto utilizzo del device proprio per la difficoltà della metodologia insomma. Dottore Sangioggi prima ci citava appunto anche l'importanza di questa visione evolutiva della farmacia dei servizi in stretta sinergia con la casa di comunità e chiaramente con la retta ospedaliera. Da questo punto di vista come anche alla luce delle risorse del PNRR si stanno riconfigurando i modelli di presa in carico e di gestione dei pazienti in Emilia Romagna? Allora c'è un lavoro congiunto tra i diversi settori, il settore dell'assistenza ospedaliera e il settore dell'assistenza territoriale e sicuramente avrete sentito parlare dei CAU che insomma che sono una grande innovazione, non riguarda le farmacie, le farmacie hanno il ruolo giusto di indirizzare i pazienti nel caso appunto di necessità di un triage se al CAU o nella rete ospedaliera, però queste sono strutture che dovrebbero togliere il peso dei codici bianchi e verdi nei PS, quindi sicuramente questa è una grandissima innovazione, ce ne sono tante altre e bisogna, adesso appunto stiamo strutturando dei percorsi nuovi proprio per vedere la sanità del futuro che sia quanto più snella possibile e con dei percorsi anche informatizzati, il più volevo aggiungere un altro atto che abbiamo fatto che riguarda sempre il tema delle farmacie e lo snellimento dei percorsi che riguarda ed è stato fatto anche da altre regioni, riguarda i pazienti stomizzati, i pazienti stomizzati sono pazienti che necessitano di assistenza integrativa e per quanto riguarda l'Emilia Romagna noi abbiamo da breve emanato un atto, una libera proprio per permettere a questi pazienti di avere una, sapete il paziente stomizzato va dal chirurgo, poi va dallo stomaterapista, poi va al distretto, si fa validare i buoni, poi va in farmacia, prenota i dispositivi e poi li riprende dopo tre giorni, quindi sono tantissimi passaggi. Noi abbiamo cercato di rendere la vita dei pazienti molto più semplice, ovviamente in caso solo di necessità di valutazione burocratica, non clinica perché la valutazione clinica deve essere sempre possibile, però insomma di snellire il percorso per i pazienti con l'astomia e in accordo anche con l'associazione dei pazienti stomizzati in continenti, quindi sono molto fiera di questo atto perché è proprio per favorire appunto i pazienti che si recano in farmacia a prendere dispositivi medici in assistenza integrativa e possono farlo in maniera più rapida e più informatizzata con una validazione che vale tre anni e non più una, come sperimentazione ovviamente. Bellissimo, dottore Sangiorgi è evidente che c'è tantissimo da fare per rendere le cure più efficaci, per rendere anche, migliorare la qualità anche di vita del paziente, in questo chiaramente non è semplice e facile trovare la direttrice giusta anche con chiaramente i vincoli della sostenibilità che sono posti e a livello europeo recentemente è anche stato sviluppato un nuovo regolamento che riguarda l'HTA, quale ruolo secondo lei avrà l'HTA in futuro prossimo a livello nazionale come regionale, anche nel ridisegno di questi percorsi di cura? Allora la valutazione HTA di farmaci e dispositivi quindi in generale delle tecnologie in senso lato è fondamentale perché non si parla più soltanto di valutazione di efficacia e sicurezza o di studi di fase 3 ma prevede la valutazione in senso lato delle tecnologie anche valutando il costo, la costo efficacia, valutando le variabili organizzative, valutando le variabili sociali, le variabili di genere, le variabili anche ambientali, la sostenibilità ambientale delle tecnologie quindi è evidente e poi in più sarà fatta da agenzie regolatorie insieme per evitare la duplicazione delle valutazioni ed è fondamentale, io ci credo moltissimo in questo regolamento europeo e sarà fatto sia per i farmaci che per i dispositivi medici e a partire dal gennaio 2025 partiremo con l'analisi congiunta per terapie oncoematologiche quindi anche le malattie rare oncoematologiche e le terapie avanzate e questo cambierà moltissimo la prospettiva della valutazione anche a livello delle agenzie regolatorie nazionali e quindi io presumo che questo permetterà una facilitazione del lavoro della commissione scientifico economica ma anche una grande capacità di miglioramento dell'approccio terapeutico all'innovazione a livello regionale perché questo significa che il clinico dovrà necessariamente per chiedere una nuova tecnologia dovrà farsi carico della valutazione e quindi dovrà essere un cosiddetto utilizzatore dei rapporti HTA che abbia avuto una valutazione positiva in termini di innovazione come HTA e quindi l'utilizzo di reali tecnologie innovative nella pratica clinica quindi con delle ripercussioni io spero anche dal punto di vista della sostenibilità economica positive ripercussioni positive nonché ovviamente dell'efficacia clinica quindi per me è una grandissima innovazione spero che davvero porti un beneficio assoluto nella insomma per noi valutatori anche per noi payers perché le regioni come sapete sono quelli che acquistano le tecnologie quindi hanno anche il carico pesante di dover sostenere equilibri di bilancio. Lo sarà sicuramente anche perché poi in tutti questi ultimi anni abbiamo visto quanto queste innovazioni questa tecnologia è voluta evidentemente abbia molto spesso l'implicazione anche di carattere organizzativo e gestionale quindi debba essere inquadrata complessivamente in una prospettiva di percorso totale sanitario e magari anche socio sanitario. Dottoressa San Giorgi citavamo in apertura e lei parlava poc'anzi anche dell'impegno che le regioni devono avere anche nella vita reale anche nel monitoraggio della proprietezza e l'indirizzo e quindi proprio a fine luglio lei è stata nominata presidente della commissione regionale del farmaco che nasce per razionalizzare contro la spesa farmaceutica e anche per valutare l'impegno dei farmaci in ambito territoriale ospedaliero. Quali priorità avete in agenda? Allora la prima cosa che dico da questo punto di vista è il ruolo della regione. Il ruolo della farmaci sappiamo fanno parte dei livelli essenziali d'assistenza i farmaci di fascia A e di fascia H e quindi chiaramente deve mantenere equilibrio di bilancio però il fondo sanitario stabilito dal MEF e quindi la quota data alle regioni non è deciso dalla regione, i costi, i prezzi dei farmaci sono stabiliti da AIFA e lo stesso insomma è lo stesso anche l'introduzione in commercio dei nuovi farmaci. Quindi diciamo che noi dobbiamo erogare una prestazione ma non abbiamo la decisione del bilancio quindi abbiamo un bilancio che è finito e allo stesso tempo siamo tra l'articolo 32 della Costituzione che è poetico quindi dare a tutti una sanità universale, universalistica, equa e pubblica e allo stesso tempo dobbiamo stare all'interno degli equilibri di bilancio. Quindi diciamo che siamo un po' strozzati in questo ruolo. La commissione regionale del farmaco ha diciamo queste due aree, un'area gestionale, organizzativa, economica, giuridica e un'area più scientifica che riguarda appunto la proprietà d'uso, il place in therapy e la costo efficacia, quindi l'utilizzo dei farmaci diciamo con lo stesso place in therapy che ci permettono anche di mantenere equilibrio di bilancio. Allo stesso tempo un valore aggiunto della commissione terapeutica sono questi gruppi di lavoro fatti da clinici in modo tale che le nostre decisioni siano condivise il più possibile con i clinici che lavorano nelle aziende sanitarie, con i vari specialisti, ci sono tantissimi gruppi, adesso sono circa una ventina i gruppi di lavoro dove ci sono metodologi, farmacisti e ovviamente i medici specialisti e a volte anche le associazioni dei pazienti sono coinvolte e quindi insomma il nostro ruolo è un ruolo di calare nella realtà regionale quelle che sono decisioni nazionali e di EMA in modo tale da mantenere anche un equilibrio economico perché ovviamente dobbiamo salvare questa sanità pubblica che sta un po' arrancando, però ce la mettiamo tutta, è un po' dura ma ce la mettiamo tutta. Grazie Toressa Sangiordi per questo suo impegno nel salvaguardare l'universalismo del nostro servizio sanitario nazionale che è preziosissimo per l'equità, per la giustizia delle cure. È stato un piacere parlarle anche perché indubbiamente la regione Emilia Romagna si è caratterizzata anche per un approccio innovativo che è stato d'avanguardia per tantissime regioni. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità.